Scatman's World За 75 ragazzi 중에 di parametro Lo Magazino incredibile grande grande come occasione della vita so che sarà durissima però sono un po più forte adesso contro che va benissimo l'importante anche se perdiamo perdere con onore e ancora però qualcuno che fa una cosa grandissima fa una cosa grande qualcuno tu sì una cosa bella bellissima mai mai il come nasce difendersi e stavolta sì però stavolta si lei comincia essere amato questo ragazzotto e ancora alcune spettacolare in questa in questo frangente ok ai 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 e vaffanculo che e vaffanculo che stavolta che si libera bene ma ancora veneziano e si gasa e si gasa e si gasa ancora e si gasa per l'ennesima volta vai cube eccola forse un po esagerato però ai 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 eccolo qua che adesso fa una mossa che non mi piace bomboide 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 ma ancora veneziano di cuore questo è il cuore ragazzi contro la grande macchina rosa di big red machine è grande questa volta ce la fa però stavolta ce la fa stavolta ma porca di quella porca è ancora il porco di cane vai veneziano bravissimo il come qua ha fatto una gran cosa ho bisogno di una mossa speciale di bravo come bravo e battere che serve tanto importante attenzione sharpshooter la mossa del cecchino la mossa del cecchino purtroppo c'è l'europe brache però c'è l'europe brache e anche io stavolta rompe di grima che io grande come ma no ma perché c'è il cumulativo perché ma no cumulativo del cavolo bravo qualcuno fa un'altra cosa importante ancora la tipica mossa come indiana dai fioi vogliamo prima lo schienamento 1 è solo una ragazza per ribattere cane anche perché non avevamo parametri forti quindi comunque nostro danno non è come il suo mamma quanto ne sto parlando oggi però è me la parla anche me la parla anche lui adesso si prova non può e non può non può però si che mi vuole schienare vuol dire che in difficoltà vuol dire che in difficoltà e vince lui e vince lui maledetto cane perché non è che ne cane aia mosso speciale anche perché ne mosso cazzo e mosso cazzo bravissimo come come mi sono difeso bene qua ma come mi sono difeso bene qua bravo 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 è solo che ci vorrà del tempo prima di riuscire a riprendere brutto brutto maledetto cane è sembra oddio si mi fa questa so cazzo choc slam choc slam è finita è finita vabbè con la choc slam di cane è finita che palle e si salva il come si salva il come si salva è troppo presto ancora si prova che in bravo ancora ma porca troia il come si salva ancora ragazzi ma adesso è duro il match adesso è duro il match bravo ti prego non pararmele tutte non pararmele tutte bravo come proviamoci anche noi eh no non ce la possiamo fare bravissimo 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 dai dai cerchiamo di conquistare un'altra finisher boom spinebuster come indiana e me la no forse mi ha parlato della mossa finale ma no proprio adesso ma no proprio adesso che cazzo no cavolo no ma vale che culo di merda al solito cane no 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 non è finita ma va cagare va a vincere cane di sottomissione incredibile arriva la sconfitta purtroppo contro cane ha fatto il possibile peccato 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 complimenti al porco di cane siamo a superstar ragazzi c'è show michael su bill goldberg match fondamentale ragazzi match veramente incredibile attenzione entra il cube entra il cube entra il cube ragazzi entra veneziano entra veneziano entra veneziano attenzione pericri del veneziano pericri del cube ma si ma show michael si riesce a liberarsi incredibile 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 ma si arriva all'archeo e sono tutti e due a terra e sono tutti e due a terra dai cazzo dai arbitro svegliati arbitro svegliati ecco il cube aiuta goldberg il cube aiuta bill il cube aiuta bill è pazzesco il cube si inserisce anche in un match così importante tra goldberg e show michael pazzesco ragazzi l'ultimo match di questo mese siamo contro siamo sempre come noi siamo contro ambrose e rollins quindi fioi sulla carta è un match importante perché se riusciamo a vincere questo magari ci posso dare anche una chance per il titolo di coppia vedremo staremo a vedere comunque per il titolo di coppia ho deciso di mettere cioè solo per le tag team metto per esperienza match veloce perché se no sono veramente eterni sono veramente eterni allora com'è la veneziana e vai dai chris stiamo un po' con chris aia mamma mia si comincia subito di merda si comincia merda ciao 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 ok dai benua e berra se devo massacrarlo per bene vincere con benua o con benenziano non mi interessa in questo caso l'importante è cercare di portare a casa la vittoria di coppia ok vai cuba vai cuba incostati ma porca trota aia fuga del ring forse l'ho spiegata un po' troppo presto non lo so però ricordo che essendo con veloce sarà molto più veloce fare tutto sotto missioni mosse finali quindi sarà tutto più frenetico vai benua vai spammiamo chi se ne frega e chi se ne fotte aia bravo chris bravo chris bravo chris super fanta chris eeeh vada come me la para sto porco ea catrota bravo benua contro mosse ancora e tac se ci voleva proprio ecco mosse speciale perfetto mosse speciale ce l'ho adesso oddio nooo l'avevo parata l'avevo parata maledetto ambros prop break bravissimo e clipper crossface vai di clipper vai di clipper vai di clipper maledetto 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 scusate perché non ho la finisher oh scusate la finisher come back vai come vai come i tre amigos one two e three proviamo a schienarlo a sto punto proviamo a schienarlo proviamoci drop break attenzione clipper crossface clipper del cube clipper diminuati scusate si salva si salva il porco si salva aia no vabbè non possiamo perderla così il cube cosa fa di là il cube cosa fa di là proviamo ancora lo schienamento proviamo lo schienamento uno due e si salva ancora ma che culo è Ambrose che culo è Ambrose tag dai veneziano grande cube proviamo a schienarlo vai veneziano provaci uno fio di una mignotta ecco cominciamo malissimo cominciamo malissimo purtroppo aia vai vai grande Benoit vai vai cazzo vai eh ma va grandissimo no no me la prendo non ci credo le l'avevo parata le l'avevo parata eh è una mossa speciale cazzo addirittura la finisher bravo Benoit diamo un po' fastidio diamo un po' fastidio bravo kume bravo kume bravissimo kume opalala dai kume adesso la dobbiamo fare la possiamo fare attenzione clipper crossface anche del kume clipper anche del kume clipper anche del kume eh messo malissimo anche lui però attenzione pedigree 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 vai 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 uno due tre si cazzo ne vinciamo un'altra ci scannidiamo per il titolo secondo me tag team e godo bravi fiore mamma mia bel me è veramente come noi siamo i clipper crossface team cazzo bravi raga un saluto del comendone veneziano il veneziano finalmente sta cominciando a colpire e lasciare un segno nella WWE ciao cumenda veneziano cumenda veneziano cumenda veneziano lo youtubers italiano cumenda veneziano cumenda veneziano cumenda veneziano lo youtubers italiano